ciao ragazzi come va tutto a posto eccoci qui su god of war io sono kingstein corporation e continuiamo l'ultima volta ci siamo lasciati che eravamo dentro la montagna ma abbiamo spinto l'alito nero e niente continuiamo a giocare salve già come va tutto bene da posto oddio ragazzi non sono ancora del tutto guarito allora proseguiamo in realtà eravamo su però vabbè mi ricordo di seguimi su instagram su youtube su twitch come kingfrape corporation è un nome credo ras lini significa terrore che cos'è strana c'è una candela avvolta da una corda è una specie di pelle d'animale forse una lanterna niente stoppino non ci serve il bifrost illumina la strada io mi ricordo che qui l'avremmo preso aspetta smettila dai stavo solo va bene cos'è tutto questo dove siamo una miniera se questo va fino in cima siamo vicini alla metà come si usa so come funziona c'è un gancio da un lato e se sblocchiamo questo oh no la corda si è impigliata sotto la roccia sei stato avventato si è vero mi dispiace bloccato forse possiamo trovare una strada lassù dopo esserci sbarazzati di quelle cose che succede a quel droga che succede a quel droga attento in sopra di te attento in sopra di te Sopra di te, occhio! Sto iniziando a migliorare Quello non lo prendiamo Non andrà da nessuna parte E' chiusa con la magia Cosa dici? Certo Questi marchi ingegni sembrano nanici Dire in pietra sono chiaramente io Sai, credo che i giganti abbiano abitato Allora Andiamo a dire Andiamo a dire Mi chiedevo chi avesse svegliato ogni dannato drogger sulla montagna Dovevo immaginarlo Eh già Ora si che si ragiona Eh questo non sarebbe male Giovanotto Ok Mi hai scordato Così dovrebbe andare per ora Non Restate per qualche perla di saggezza Wow Che posto è messo Ovvio E' una montagna Questa è messa Senta Di che Iscriviti Allora E' una mia Grazie a tutti. 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 Grazie. Ok, sopra qui... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. 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 ok scusate ragazzi torno subito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccomi qua ragazzi non l'associa qualcosa di strada potrebbe essere pericoloso lascia perdere le supposizioni pensa alle cose concrete e tieni gli occhi aperti sì ora siamo più vicini ehi questa non è rotta c'è un messaggio una preghiera dei giganti affinché gli antenati veglino su di loro e li guidino verso casa ragazzo aspetta credo di sapere come funziona guarda guarda che hai scritto ho chiesto di vegliare sulla mamma veglieranno anche su di noi durante il viaggio andiamo la strada è lunga ok andiamo andavanti ci erano qualcosa qui giusto indietro nella galleria vado attenzione altre prove in anni avranno scavato questi tunnel per aggirare le tue buon per noi o meglio buon per me non ci credo non sei d'aiuto ci vediamo dall'altra parte per me per me non ma non 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 Sì. non c'è niente forse la strada sarà non c'è niente forse no, è ancora troppo pesata no, si muovono e dopo che voglio cambiare i poteri che trova bene ehi, una volta in cima quanto lontano pensi che riusciremo a vedere fino all'alto al serpente del mondo a casa lo scopriremo una volta arrivati ora, occhi aperti Atreus sto bene ho solo perso l'equilibrio per un attimo sai, per essere così forte ti preoccupi troppo se non lo facessi moriremmo di certo sarà ma non mi sembra divertente vivere così no, non mi sembra no, non mi sembra è fatta davanti, nemici no, non mi sembra 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 ok, dovrei preoccuparmi di più siamo al capolino no, non mi sembra non mi sembra no, non mi sembra oh no già preparati Sì 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 Siamo quasi in cima Niente potrà fermarti Sì 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 Preparati! 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 Uda! Uda! Che figata! La prima volta che ci ho giocato, raga! Mamma mia! Wow! Ce l'abbiamo fatta! E tu? Ah! Ma... 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 nessuno ha ucciso un drago da centinaia di anni! Dalla grande battanza delle diverne! E se non mi sbaglio, l'avete fatto solo... per me! Ti sbagli, invece! Quel drago intralciava il nostro cammino! Negalò quanto vuoi! Ma tu mi hai salvato! E questo merita una ricompensa! Che sono questi? Frecce di rischio intrecciato! Più dritte di Emidal e super bilanciato! Oh! Grazie! Oh! Ok! Aspetta! Ehm... Questo no! Ehm... Avete rivisto mio fratello? Sì! Dici che hai perso il talento! Oh! E che sono egoista! No! Di sicuro! Che curo l'aspetto di un'arma! No! Più che il tuo scopo! Che sono pretenzioso! No! E ansioso! Pignolo! Lo so che cosa pensa! Ma lui non può più ferirmi! Ah! Brucialo! Non ho tempo per queste cose! No! 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 Aspetta! Ho un'idea migliore! Quale? Mi serve un dente di quel drago! Allora! No! Signori! Il momento! Prima di andare avanti! Fermo la live! E riprendiamo subito dopo! vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation adesso ci vediamo tra poco e niente, continuiamo a giocare ciao